Si è rivelata un importante momento di approfondimento sui temi del credito, della finanza e su tutti gli strumenti attualmente a disposizione delle imprese per incrementarne la capacità di investimento e di liquidità. L'iniziativa organizzata da Confindustria Salerno con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, la finanza a sostegno dello sviluppo imprenditoriale, tappa salernitana del roadshow nazionale Finanza per la Crescita. Facendo seguito alla presentazione avvenuta a giugno 2014 dell'Agenda per il Credito e per la Crescita del Paese che contiene una serie di proposte per favorire l'accesso al credito delle imprese ma anche il ricorso a canali finanziari alternativi, Confindustria ha lanciato un appello preciso. Le imprese non possono crescere se non sono finanziate. È evidente che la finanza diventa sempre più una delle funzioni strategiche delle imprese italiane. In un momento delicato occorre intercettare i flussi di credito. Un grande confronto e informazione sugli strumenti per il credito, sugli strumenti di finanza che vede insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, Borsa Italiana, Cassa, Depositi e Prestiti, Fondo Italiano di Investimento. Riuniti attorno ad uno stesso tavolo i soggetti che a vario titolo possono offrire sostegno al credito delle aziende per supportarle nei diversi ambiti di investimento, il presidente di Confindustria Salerno, Mauro Maccauro, ha anche annunciato sulla scorta del protocollo con Borsa Italiana l'attivazione di un Elite Desk, uno sportello di informazione riservato alle imprese associate che intendono accedere alla piattaforma internazionale di servizi integrati creati da Borsa Italiana per supportare le imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita.